Musica Bene, al di là del risultato che abbiamo perso 3-0, perdere sicuramente tre atleti in un colpo solo in una settimana come Piantoni, Susio e Migliokovic è una bella botta. Bravissima chi le ha sostiturite, però sicuramente mi sarebbe piaciuto giocare questa gara alla pari contro una squadra sicuramente molto forte. Faccio i complimenti a Piatoni, ma faccio i complimenti anche alle mie atlete perché comunque hanno cercato di portare via il secondo set, peccato per quel set lì, però più di così secondo me oggi non potremmo fare perché eravamo veramente in condizioni molto disastrose. Quindi pensiamo alla prossima e speriamo di recuperarne qualche d'una e ci prepareremo bene in settimana. Grazie.